Vi chiedo, io questi due li approverai assieme perché comunque sono la stessa cosa, perché dobbiamo modificare il regolamento per esercizio delle attività di somministrazione elementi e bevande e quello di polizia urbana che sono gli orari dei locali pubblici. Come avevo detto, qui c'era nella regione di Capigruppo proprio attraverso a quel ragionamento che abbiamo fatto prima con i carabinieri da un po' di tempo si sta lavorando assieme alle forze dell'ordine, i carabinieri, polizia locale e gestori dei locali proprio per trovare una condivisione che permettesse di tranquillizzare, cioè di tenere sotto controllo la questione perché a volte la musica andava fino alle 4 del mattino e poi c'erano le deroghe, poi dopo durante il Covid abbiamo detto non facciamo più deroghe, nello stesso tempo i locali ci chiedevano perché il regolamento prevedeva all'una fuori e all'una e mezzo all'interno dei locali e quindi in qualche modo ci chiedevano di allungare un pochino allora con i carabinieri abbiamo ragionato, sull'esterno rimane quello, se non viene modificato, sull'interno si arriva alle 2 con un impegno che abbiamo appunto preso con i gestori dei locali, soprattutto quei locali che tengono aperto la sera che assolutamente non devono fare musica all'interno aprendo le finestre facendo sentire anche da fuori ma cominciare ad abbassare il volume dall'una in poi, quindi arrivare alle 2 perché i carabinieri hanno detto chiaramente se viene abusata questa cosa qua noi arriviamo, vi chiudiamo vi facciamo la multa e chiudiamo il locale perché c'è un accordo proprio tra persone che hanno bisogno di lavorare perché comunque i gestori dicono noi arrivano qua, fanno l'aperitivo, vanno a cena i ragazzi poi escono da cena alle 11 e mezza, mezzanotte, all'una li mandiamo a casa, vanno da altre parti quindi in qualche modo abbiamo cercato di aiutarci visto anche la situazione è chiaro che sotto controllo dobbiamo avere anche il resto della situazione quindi chi vive a Castelnuovo, all'interno di Castelnuovo e non deve esserci degli abusi e su questo stiamo lavorando perché comunque i turni della polizia locale e dei carabinieri sono ripresi il venerdì sera e il sabato e stiamo cercando avevamo un accordo anche con la COP di risolvere il problema del giardino sopra la COP dovevamo installare delle telecamere che avrebbero dovuto pagare loro ad oggi non abbiamo ancora avuto le loro disponibilità noi dobbiamo in qualche modo intervenire e cercare ma sulla COP adesso mi dicono che avviene più durante il giorno, sotto sera che non alla notte e quindi di giorno adesso ci sono gli accertatori della sosta che in qualche modo faranno una funzione anche loro di andare a vedere anche quelle situazioni lì ci sono i vigili che hanno come ordine la polizia locale due punti da tenere sotto controllo sono appunto il giardino sopra la COP e il parcheggio delle corriere dove devono girare le corriere lì dal bar Pinete quindi insomma stiamo cercando piano piano di arrivare a trovare una dimensione che permetta a chi vive il Castelnuovo di viverlo bene soprattutto i giovani che possono trovare un qualcosa e poi il problema era che chiudeva a luna poi uscivano, continuavano fino alle 3 comunque a fare casino fuori dal locale per cui anche il gestore dice noi li mettiamo fuori però dopo fanno casino lo stesso quindi proviamo con questa modifica di regolamento di questo patto che abbiamo fatto assieme ai gestori che hanno già dimostrato in questi anni di assumendo un po' di personale per controllare di modificarlo un po' non è semplice poi hanno fatto anche degli investimenti dentro ai loro locali dove la musica all'esterno se tengono chiuso e non usano la veranda come un interno ma la veranda è un esterno è considerato esterno e il locale interno è un'altra cosa se tengono la musica dentro con non i volumi esagerati può essere gestibile fino alle 2 di notte noi abbiamo appunto parlato con loro abbiamo trovato questo accordo io non so se volete che vi leggo i due punti che vengono cambiati come vengono in qualche modo modificati quindi quello del regolamento delle somministrazioni degli alimenti prima era preso atto dell'articolo 22,3 lettera I del predetto regolamento prevede la diffusione musicale dovrà essere sospesa dalle ore 14 alle ore 16 e gessare le ore 1 del giorno successivo fatta salvo la possibilità per l'amministrazione comunale di stabilire con apposito provvedimento un diverso orario un limite d'orario che erano le famose deroghe che facevamo invece adesso diventa la proposta di modifica pertanto opportuno modificare l'articolo 22,3 lettera I del regolamento precedentemente citato come segue la diffusione musicale dovrà essere sospesa dalle 14 alle 16 cessare qualsiasi emissione derivante da qualunque strumento di produzione musicale dall'1 alle ore 7 all'esterno del locale dalle ore 2 alle ore 7 all'interno del locale avendo cura di ridurre progressivamente l'emissione sonora anche ricorrendo alla chiusura fisica delle infisse delle porte per agevolare tale riduzione nella fase oraria che va dalle 0.00 alle ore 2 è fatta salvo la possibilità che l'amministrazione comunale di stabilire un apposito provvedimento in un diverso limite d'orario nel caso delle deroghe se c'è una festa particolare però finora le deroghe abbiamo deciso di non darle più perché dopo diventava difficile gestirle e speriamo che sia sufficiente questo la stessa cosa è dell'altro ve lo leggo era messo in un altro modo ma la sostanza era la stessa cioè fino all'una all'esterno alle due con una progressiva riduzione della musica all'interno tenendo conto che l'interno deve essere interno non deve essere le verande come dicevo prima se è sufficiente assolutamente ve la leggo la seconda dicitura prego questo vale per i locali solo del centro di Castelnuovo e di Felina o anche per tutti quelli che sono fuori dai centri abitanti i locali che fanno la movida che fanno le feste la sera il circo di costa tutti vale tutti gli esercizi non solo quelli che si trovano tutti non può essere diventa difficile mi è venuto in mente il circo di costa ma il circo di gatta quelli che sono quelli che fanno un'attività e non ci sono dentro le feste paesane qua oppure le feste in piazza sulle feste in piazza anche lì vale il fatto che fino all'una possono e poi nel caso possiamo capire se possiamo andare fino all'ora e mezzo per chiaro che dopo deve essere perentorio lo spegnimento quindi in base alle feste decidiamo un po' esatto anche su quello cerchiamo di gestirla a seconda di quello però penso che l'una all'esterno sia abbastanza insomma perché dopo se vai avanti diventa problematico volevo solo fare una una osservazione su quella che è la situazione dei giardini della Copp visto che ci abito sopra è vero che la situazione è nettamente migliorata rispetto all'anno scorso due anni fa anche se il transito dei ragazzi c'è sempre durante il giorno vabbè c'è una situazione un po' diversa e non è questo il momento stiamo parlando di orari di un'altra cosa c'è sempre molto traffico e soprattutto con la chiusura dei locali i giovani si ritrovano comunque ai giardini della Copp e usano i telefonini come se fossero dei registratori di una volta e quindi la musica fuori c'è sempre anche dopo le due questo indipendentemente dai gestori dei locali che non hanno colpa perché è un'altra cosa e gli schiamazzi continuano in maniera minore rispetto a prima perché c'è meno assembramento che vi ricordate che avevo posto il problema diversi anni fa c'erano decine decine quasi centinaia di ragazzi che si ritrovavano lì proprio perché non potevano trovare posto in tutti i locali poi adesso comunque essendoci più in lockdown la gente i ragazzi girano sono tutti automuniti e quindi c'è anche meno confusione però c'è sempre un po' di non solo nei giardini della Copp ma anche nelle stradine del centro storico questo lo volevo sottolineare sì ci sta assolutamente quindi in base a questo noi stiamo facendo un ragionamento che sui minori l'alcol ai minori anche i supermercati su tutti quelli che vendono alcolici stiamo cercando di lavorarci c'è il lavoro fatto dalle politiche giovanili che va proprio in questa direzione i fuochi di artificio non si possano fare perché anche quello l'abbiamo ribadito con i gestori dopo sono responsabili chiaro se non li fanno loro ma vanno sul giardino della Coppa a farli ma le dico ci sono le feste perché in quel momento lì prendono la multa chi fa il fuoco d'artificio quindi questo regolamento dovrebbe mettere un po' più di ordine e di chiarezza rispetto a quello che si può fare o non fare ve lo gireremo questo così lo potete vedere e avere anche sotto mano se qualcuno lo vuole vedere o tenere perché spesso ci chiedono queste cose per cui insomma in qualche modo pensiamo proprio perché c'è stata una costruzione fatta insieme alle forze dell'ordine e ai gestori che possa funzionare poi se dovremmo ricorreggere qualcosa dobbiamo farlo perché serve per permettere a tutti di vivere il centro di Castelnuovi in un certo modo il centro di Felino il centro o i centri le frazioni anche a Berzana l'altra sera ci hanno detto noi all'uno interrompiamo e hanno interrotto la festa di Berzana quindi in qualche modo sono attenti anche loro perché ci abita meno gente ma ci abita sempre gente che ha diritto di vivere in un modo giusto la situazione posso aggiungere una cosa che nel regolamento c'è proprio anche scritto che tutte queste modifiche sono state condivise con le forze dell'ordine in numerosi incontri che sono stati fatti quindi anche questo è stato inserito premesso che il mio gruppo è favorevole alle feste è favorevole che i nostri giovani si possano divertire ascoltare la musica e passare la giovinezza nel modo migliore possibile ovviamente siamo favorevoli che i gestori dei locali possano svolgere bene la loro attività e guadagnare in modo lecito e avere un profitto dal loro lavoro però c'è tutto il resto della società il resto degli abitanti che hanno uguali diritti di poter dormire tranquilli di potersi riposare quindi la questione dei diritti noi siamo a favore di tutti questi diritti fino a quando non confliggono uno con l'altro perché a me i giovani sono simpatici mi ricordo che una volta tanti anni fa ero giovane anch'io quindi posso capire le esigenze che hanno però ripeto c'è tutta una comunità che non può essere tenuta sveglia fino alle ore piccole o stagio di schiamazzi e altre cose mi va benissimo la condivisione con le forze dell'ordine devo dire che ho notato che almeno per quello che posso notare io che non sono certo un investigatore che è il fenomeno per esempio dello spaccio perché noi parliamo di bevande alcoliche ma abbiamo avuto e abbiamo ancora purtroppo una grossa componente di sostanze illegali che circolano e abbiamo dei personaggi che le portano ecco ho potuto notare che forse anche grazie alla repressione attuata da alcune persone che erano qua stasera il fenomeno si è leggermente ridotto sarebbe bene a questo proposito come inciso poter avere degli incontri almeno una volta all'anno con le forze dell'ordine con noi capigruppo se non tutto il consiglio perché magari qualche suggerimento potremmo anche darlo per quello che possiamo vedere quindi ritornando a quello che dicevo prima siamo a favore che i giovani si divertono siamo a favore che i nostri che i gestori dei locali pubblici guadagnino però vogliamo che siano tutelati i diritti degli altri cittadini tenuto conto che il regolamento comunale sull'emissione dei rumori sulla musica e quant'altro va benissimo un regolamento comunale però nel quadro delle leggi nazionali ci sono poi dei limiti che non sono quelli dell'orario ma delle emissioni sonore e su quelli spesso spesso sì però non avevamo sembrava così molto complicato poter definire in realtà abbiamo fatto anche degli interventi grazie al consigliere Paolo Pigoni che è un esperto del settore e ha anche gli strumenti per farlo ha fatto delle verifiche a suo tempo avevamo altri gestori di altre attività che si sono lamentati perché io mi ricordo i gestori dei nostri alberghi soprattutto uno qui centrale aveva fatto anche dei video e l'avevo postato uno anch'io al suo tempo perché non era lui in particolare che aveva questi questi così questo rifiuto del rumore ma erano i suoi clienti che dicevano ma come veniamo su in un paese di montagna a rilassarci poi non riusciamo a dormire ma c'erano state delle cose anche un po' spiacevoli quindi va benissimo tutto speriamo di riuscire a vedo che anche i gestori comunque si sono sensibilizzati negli anni perché sappiamo benissimo c'era un particolare uno di questi che attraeva moltissimi giovani che era costantemente bersagliato da proteste quindi benissimo io tutto questo cappello l'ho fatto anche per introdurre l'intervento di Paolo Pigoni che ci dirà a mio avviso cose interessanti su questo aspetto vi ringrazio niente il problema ripeto i giovani bisogna divertirsi l'altro problema è il comune che non vigila noi abbiamo delle emissioni che possono arrivare massimo 60-70 decibel con una prologa da parte del sindaco di 3-3 decibel e mezzo ma 70 sono già molti io ho fatto dovrebbero essere 60 tenendo presente che di giorno calano cioè di notte calano se sono 60 passano a 50 io ho misurato l'altra volta 95 decibel davanti a un panificio sono tanti è quasi una motosega che funziona vicino all'orecchio 85 decibel di fronte al tabaccaio e 80 decibel ricordiamo un camion a pieno regime cioè a motore che va tantissimo sono 80 decibel e 80 rotti vicino alla eh? l'albergo non l'ho misurato perché gli tremavano i vetri per dirvi immaginate dentro ci saranno stati più di 80 decibel cioè è una situazione che non si può reggere io chiedevo al comune che tutti quelli che non leggiano gli impianti siano a norma per norma significa il limitatore avere lo strumentino che è un lavorino così per misurare i decibel di uscita se non si fa questo il problema non lo si risolve cioè per far guadagnare tre roviniamo mezzo paese poi qui c'è il dottore l'eccesso di rumore dà dei problemi eh? ma ne dà tanti c'è insonnia ipertensione reparto ospedale dopo lavoro che è una magata cioè tutte queste cose e si può fare musica usando delle attrezzature omologate qui ci si improvvisa noleggiatori ci si improvvisa dj e nessuno fa le cose fatte bene tutto lì noi chiediamo semplicemente che il comune vigili su chi noleggia e se sono a norma tenete presente che un impianto stereo anche se l'ARPA non gira basta che lo fotografiate l'ARPA può andare il giorno dopo lo guarda e soprattutto gli dice dove è l'imitatore lì me lo apre e guarda se c'è il bypass cioè se evitano il limite questo lo segnalano ai vigili perché gli unici preposti non può essere il sindaco per fare questo quindi io colgo questa tua segnalazione e la quando fanno una scia no loro no che scia per fare una festa non fanno niente anche per la musica provo a guardarci allora se è interna c'è il regolamento regionale comunale e tutto il resto ad esempio c'è un bar qui senza fare nomi sarà lontano 100 metri da qui che i residenti si lamentano sì però all'interno loro devono essere a norma se non sono a norma casca sempre l'asinello bene grazie coliamo questo suggerimento volevo dire che mi trovo favorevole a questo nuovo regolamento anche se non l'ho ancora letto per soltanto quelle cose che ha letto il sindaco possono andare bene va bene l'una va bene le due va bene anche qualche deroga durante qualche festa l'importante e mi accoda a quello che ha detto anche Paolo è appunto che ci sia che ci siano poi dei controlli se non altro inizialmente perché l'importante il controllo farlo quando si parte con un nuovo regolamento perché così uno sa quello che può fare quello che non può fare e si mette subito in regola perché se si parte i controlli arriveranno fra due o tre anni dopo è già troppo tardi intanto si è dato anche fastidio confermo che non riuscire a dormire da notte è deletereo in una maniera incredibile soprattutto perché il giorno dopo e a Castelnuovo c'è tanta gente che va a lavorare anche di sabato e di domenica quindi lo dico per esperienza personale ho fatto due stati che non chiudevo occhio perché tutte le sere c'era della Baldoria comunque quello è un mio problema personale però non ci si sta bene e quindi io voto favore questo nuovo regolamento spero di riuscire poi a recuperarlo sulla pagina del Comune e spero soprattutto che anche all'inizio i controlli che vengano fatti magari vengano fatti anche non punitivi subito ma di spiegare bene cos'è il nuovo regolamento e se si mette in atto anche quella cosa dei decibel che diceva Pigoni prima anche di spiegarlo bene perché magari tante persone anche se dovrebbero saperlo non lo sanno nel regolamento c'era già la questione dei decibel quindi sì sì ma non mi metto mica io a girare con quel coso lì però deve essere certificato non è che puoi girare con quello sì ho capito però te sì ma se lo compro io dai cinesi o da un altro negozio o da un emporio non è mica certificato esatto e su quello ci sono gli organi competenti quindi c'è l'ARPA ci sono i vigili ci sono i carabinieri l'altra sera quando hanno fatto le prove in piazza Peretti mi hanno chiamato immediatamente l'hanno provato per collaudarlo alla festa che c'era in piazza alle 7 era arrivato l'hanno usato al massimo per poterlo ridurre mi hanno chiamato gli ho spiegato cos'era avvenuto dopo durante la serata l'hanno tenuto sempre nel modo giusto quindi noi su questo ci stiamo lavorando è chiaro che non posso essere competente io non lo sono non voglio essere segnaleremo questi aspetti qua nel momento in cui però chi ha gli impianti dentro i locali se voi sono apposti il problema sono quelli che se vengono noleggiati capire quelli se hanno le certificazioni quindi lo chiederemo che di dovere il nostro gruppo mette a disposizione no non possiamo non possiamo no infatti forse si riferivano al fatto se io chiamo come locale chiamo un DJ perché se il locale ha il suo impianto immagino che sia perché lavoriamo tutti in regola più o meno beh ce lo faremo dire adesso lo chiediamo però magari il DJ che uno chiama lo fa amatoriale dico magari non ha le attrezzature tutte conforme a quelle che sono le regole quindi l'amministrazione dovrà dare l'input ai controlli e dovrà dire a suo modo ma secondo me glielo avete detto quando avete fatto le riunioni che comunque le regole vanno seguite che è la cosa più fondamentale di questo mondo siamo convinti che sia il sorgeremento che dici te lo accogliamo con piacere chiaro che non posso mi garantirti che io non vado a controllare perché non sono capace esatto esatto se non c'è il cavallotto interno esatto quindi io metterei in approvazione prima uno e poi l'altro quindi vado in ordine approvazione e modifica regolamento per esercizio di abitare di somministrazione alimenti e bevande nuovi criteri di programmazione quindi qua chiedo un voto chi è d'accordo ok grazie contrari astenuti due astenuti immediata esecutività chi è d'accordo grazie astenuti due astenuti modifica regolamento comunale di polizia urbana approvato